Ritirata a modica l'istituzione dell'isola pedonale in orari pomeridiani e serali nel tratto di corso Umberto, compreso fra il Duomo di San Pietro e Piazza Municipio. L'ordinanza era pronta da circa due settimane, ma dopo diverse lamentele da parte dei commercianti della zona interessata, il provvedimento sembra essersi arenato in attesa di un futuro incontro, proprio tra i commercianti e l'amministrazione. Insomma, l'intenzione sembrerebbe quella di proseguire con i piedi di piombo e di non toccare equilibri fragili come quelli relativi alla pedonalizzazione di corso Umberto, questione in discussione ormai da decenni. Alla base delle proteste fatte e pervenute al Comune, il rischio di una diminuzione degli incassi, un argomento messo sempre in campo quando si parla di cambiamenti che interessano il centro storico. Si ricorda che il provvedimento prevedeva la chiusura al traffico e il divieto di sosta, solo nel tratto di corso Umberto, compreso tra Piazza Municipio e Corso Garibaldi, dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 22. Nello stesso tratto, dal venerdì alla domenica, l'isola pedonale era prevista attiva dalle 16 alle 24. Gli autobus dell'Ast che collegano Modica Bassa con il quartiere Sorda transiteranno per la via Modica Ragusa e la statale 115. L'isola pedonale in questione è stata decisa dopo un incontro di una delegazione di commercianti del centro storico e il sindaco di Modica, Ignazio Abate. Allo stato dei fatti sembrerebbe quindi che parte dei commercianti sia totalmente contrario alla chiusura del salotto buono della città, mentre la restante parte si dica favorevole. Una bella patata bollente sulla quale l'amministrazione è quindi chiamata a prendere una decisione, sicuramente non facile e a quanto pare neanche immediata.